Mancava il roseto capospulico e mancava per chi lo ha amato e sentive, ha sentito e sente la necessità di fermarsi lì a ricordarlo anche attraverso la preghiera. Ora, lì dove Donato Bergamini ha perso la vita il 18 novembre del 1989, c'è una nuova lapide in sua memoria inaugurata in occasione del suo 52esimo compleanno. Una iniziativa dell'Associazione Verità per Dennis e della Scuola Calcio SD Football Team Denise Bergamini in collaborazione con la terra di Piero, Cosenza nel Cuore e i gruppi della Curva Sud Bergamini nell'ambito di un evento denominato Uno per Tutti, Tutti per Dennis. Un momento in cui chi lo ha amato si è unito attorno al suo ricordo, per la prima volta anche la costa ionica cosentina e attraverso il rifiacimento e la ricollocazione della lapide posta sulla SS 106 ed ora ospitata sul Golfo Bella Vista di Rosetto Capospulico. Questa scelta, idea partita dalla Scuola Calcio Dennis Bergamini è stata un'idea per me molto bella anche perché effettivamente si trovava in un posto dove chi voleva fermarsi era molto pericoloso e quindi sono felicissima. Alla realizzazione dell'evento hanno contribuito anche le amministrazioni comunali di Rosetto Capospulico, Amendolara, Montegiordano e Oriolo con il patrocino dell'ANES e della provincia di Cosenza. Un'intera giornata in ricordo di Dennis con la inaugurazione della lapide prima, la commemorazione di Dennis poi e un torneo, esibizione di calcio riservate alle categorie pulcini ed esordienti ospitato dal centro sportivo ASD Giovani Talenti di Amendolara. Un giorno trascorsa assieme a Dennis al suo ricordi a ciò che ha rappresentato in cui hanno trovato posto riflessione, viaggio nel passato, dubbi e certezze. Ma non sono mancati anche momenti di intrattenimento con stand enogastronomici e una rappresentazione teatrale a cura della terra di Piero, il cui incasso sarà interamente devoluto in beneficenza.